Amici imprenditori che cambiano, ben trovati ad un'altra puntata di Focus On. Oggi ho un ospite straordinario, Sabina Vaccari. Ciao Sabina, buongiorno. Ciao Francesca, buongiorno. Buongiorno a tutti. Grazie per essere qui. Ti presento prima di iniziare questa nostra chiacchierata di oggi perché parleremo di marketing relazionale. Sabina è un'esperta di creazioni, di contatti e connessioni, direi, tra imprenditori e professionisti. E quindi ti do il benvenuto perché questo è un tema estremamente interessante anche in un'epoca come questa dove un po' possiamo incontrarci, un po' possiamo incontrarci meno. Siamo anche sommersi da tanta tecnologia, però le relazioni non cambiano. con il valore che hanno le relazioni e l'importanza di costruirle. Quindi, Sabina, prima di tutto tu hai una rete molto vasta tra Roma e Milano di circa 800 connessioni che sei riuscita negli anni a stabilire tra imprenditori e professionisti. Quindi la prima cosa che voglio chiederti è come hai fatto, da dove sei partita e come sei riuscita a creare questo network così importante. Sì, effettivamente è un bel insieme di persone, però sono tanti anni che io lavoro intensamente nel creare appunto queste relazioni, queste conoscenze e far sì che tra di loro si possano conoscere. Lo facevo anche prima in modo un po' casalingo, diciamo, con i bambini, con le amicizie. Creavo davvero le opportunità alle persone di incontrarsi, di conoscersi e naturalmente di poter approfondire quella relazione, quel rapporto che poteva essere utile a entrambi. Spesso e volentieri noi non sappiamo chi c'è dietro ogni persona e quindi l'incontro è sicuramente magico, è il conoscere una persona, approfondire la relazione e poter poi, mai dire mai, sviluppare sempre qualcosa. Quindi in questi anni, diciamo, ho davvero fatto questo mettendo insieme tante persone e, devo dire, con tante soddisfazioni. Sabina, oggi vorrei un po' capire con te qual è il ruolo del marketing relazionale offline, perché è quello sul quale tu principalmente lavori, in un mondo che è molto online. Siamo tutti abituati a usare smartphone e computer e creare molte connessioni online, però io dico sempre che non esiste più veramente un online e un offline, siamo tutti sotto uno stesso cielo e quindi l'importanza di queste relazioni reali è ancora fondamentale. Però raccontami che cosa ne pensi tu? Beh, devo dire che la relazione offline è davvero importante, perché il web ci ha avvicinato tanto in questo momento, sicuramente è stata la nostra ancora di salvezza, anche adesso, io e te, possiamo parlare tranquillamente grazie al web e tutta la tecnologia, però chiaramente le relazioni vere si basano su molte altre cose, molti altri fattori e uno di questi è sicuramente l'incontro è fondamentale. Io curo attentamente davvero ogni cosa per l'incontro, perché ogni piccola cosa ci aiuta a conoscere di più la persona e quindi da lì possono nascere anche tante opportunità di business perché si va a toccare degli argomenti, approfondendoli e naturalmente creando quella affidabilità e quella dedizione l'uno all'altro che in presenza sicuramente è molto più approfondita. In presenza si possono utilizzare tante altre cose, tra cui tutti i cinque sensi, che invece ovviamente online sono un po' ridotti. Possiamo comunque trasmettere la nostra empatia, possiamo comunque trasmettere la nostra passione per il nostro lavoro, però in presenza contribuiscono anche tante altre cose. Quindi sicuramente l'offline non potrà mai sostituire l'incontro, l'online non potrà mai sostituire l'incontro offline perché la presenza è tutta un'altra cosa, insomma. Senti Sabina, possiamo dire che il passaparola è e rimane comunque una delle leve più potenti nel marketing, quindi tutto il tuo lavoro, diciamo, fatto in questi anni, le connessioni che hai creato, hanno questo poi di scopo, di sviluppare tra imprenditori e professionisti un passaparola, non casuale però, perché anzi direi che è un duro lavoro. Esatto, il passaparola strutturato vuol dire non casuale, proprio vuol dire studiato. E ma soprattutto, io dico sempre che bisogna agire. Quindi, come spesso anche dici tu, l'azione è il segreto di tutto, ma l'azione deve eseguire naturalmente dopo che uno ha pensato come farlo. E quindi qualcuno prima di noi ha pensato e ha pensato un metodo per farlo e questo è un metodo che davvero da tanti anni, più di 36 anni, lavora per aiutare i professionisti, imprenditori, artigiani, a costruire relazioni, relazioni forti e a ottenere risultati che uno desidera. Questa organizzazione si chiama BNI, di cui io faccio parte, sta per Business Network International e davvero ti aiuta, ti supporta, non solo a incontrare tante persone, nuovi contatti, ma a imparare questo metodo, perché col metodo riesci a ottenere quello che desideri, mentre se lo fai casualmente, magari ci riesci, ma non è detto che tu ci possa riuscire. Quali sono i benefici di riuscire ad applicare davvero il metodo? Sono tantissimi, te ne dico qualcuno proprio per incuriosire le persone che ci ascoltano, che BNI è davvero un'opportunità. sicuramente i benefici sono quelli di avere una grande organizzazione, la più grande organizzazione internazionale di business e di scambio di referenze alle spalle che ha già sperimentato tutto. In 36 anni hanno già provato, riprovato, migliorato e costantemente migliorano quella che è la modalità, il metodo per aiutare davvero i nostri professionisti, i nostri imprenditori a migliorarsi. e naturalmente anche i piccoli segreti, BNI è fatta di piccole cose e queste piccole cose sono facili da osservare, da fare, da portare a termine, ma sono anche facili da non fare e quindi noi accompagniamo, sosteniamo, aiutiamo, facciamo un po' aprire gli occhi agli imprenditori che se fanno queste piccole cose ottengono molto di più. Una delle cose è creare la fiducia tra le persone. Senza fiducia le persone sicuramente non hanno quella spinta, quello stimolo per aiutarsi reciprocamente. Mentre creare la fiducia vuol dire conoscersi, vuol dire dedicarsi del tempo, vuol dire approfondire la conoscenza anche professionale, ma anche relazionale, anche personale e soprattutto cominciare a stimarsi e conoscere tanti mondi diversi e quindi tante attività. Quindi c'è comunque un arricchimento non solo dal punto di vista economico perché raggiungi nuovi clienti, nuovi obiettivi, ma anche dal punto di vista personale perché ti si aprono delle porte su mondi che puoi non aver mai neanche incontrato. Quindi davvero è una grande opportunità. E la creazione delle relazioni di fiducia è il tema anche più difficile quando si cerca di fare acquisizione di nuovi contatti o di nuovi clienti perché le persone normalmente non si fidano immediatamente di un professionista o di un imprenditore. Quindi il processo può essere più lungo. Invece diciamo che la tua rete permette di accelerare un po' questo tempo anche se come abbiamo detto bisogna bisogna lavorarci. Ci sono dei valori che accompagnano, no? Chi vuole sviluppare delle relazioni di fiducia e che accompagnano anche il metodo in BMI. Ce le vuoi raccontare? Certo noi abbiamo sette valori e sicuramente sono tutti importantissimi ma il primo valore è quello che se vuoi fiducia devi dare fiducia se vuoi affidabilità devi dare affidabilità se vuoi ovviamente che le persone ti rispettino devi prima dare rispetto ascolto tante cose che davvero non ci costano molto ma spesso e volentieri le persone non le capiscono e non le attribuiscono. La fiducia per noi è fondamentale quindi consta di tempo di dedizione di ascolto e conoscere le persone e per primi noi darci agli altri ci consente poi di ricevere. Io probabilmente nella mia vita questo lo facevo già ancora prima di essere un'imprenditrice e lo facevo davvero con soddisfazione. Mi piace sempre aiutare le persone chiunque sia perché so che se posso fare anche una piccola cosa ma che può fare la differenza nella vita degli altri io per prima ne traggo beneficio in che modo? Non tanto dal punto di vista economico ma soprattutto di soddisfazione personale. Il sentirmi utile per un'altra persona dà per prima la soddisfazione a me. Io dico chi fa del bene per prima cosa vuol bene a se stesso perché riceve una gratificazione proprio dal fare il bene e in BNI questo noi lo facciamo costantemente aiutiamo le persone a capire che prima di ricevere devono imparare a dare ed è un po' il nostro primo valore fondamentale il cosiddetto give as gain give as gain è il nostro pilastro dell'organizzazione che differenzia tantissimo quello che noi facciamo rispetto a tante altre organizzazioni che ci provano ma non hanno questo valore quindi per me sicuramente è la cosa principale che ripeto probabilmente io l'avevo già un po' l'ho solo qui alimentata e l'ho traslata nel discorso lavorativo ma già nella mia vita personale delle amicizie e di tutto quello che facevo prima per me era importante aiutare gli altri e darmi agli altri quindi hai traslato quelli che sono i tuoi valori all'interno dell'aspetto professionale che anch'io suggerisco sempre essere la cosa migliore anche perché poi si è autentici veri e le persone lo riconoscono decisamente lo riconoscono Sabina per chi non dovesse conoscere questo network vuoi dire magari a chi è per chi è quindi se è aperto a tutti come è possibile accedere o conoscere magari un po' di più del network sicuramente questa rete è aperta a tutti gli imprenditori professionisti gli artigiani quindi persone che hanno voglia davvero di conoscere altri contatti allargare la loro rete ma soprattutto di lavorare di più perché in BNI noi lavoriamo di più cioè acquisiamo nuovi clienti attraverso naturalmente quella che è la conoscenza passo dopo passo BNI non ti cambia la vita il giorno dopo che sei entrato nella nostra grande famiglia perché ormai si tratta un po' di una famiglia allargata però BNI ti aiuta davvero a evolvere contribuisce proprio a farti anche crescere dal punto di vista della formazione perché noi associamo il business alla formazione diciamo sempre chi non si forma si ferma e in BNI è proprio così vanno avanti davvero le persone che hanno voglia di migliorarsi e quindi ti migliora dal punto di vista personale formativo professionale e ti crea delle potenziali opportunità che senza BNI naturalmente non puoi incontrare se ovviamente qualcuno che ci sta ascoltando è interessato io sono a disposizione mi può contattare sul mio sito che vedete passare in sottoscritto www.seminiamocontatti.it ci sono tutti i miei riferimenti ovviamente abbiamo un brand che è BNI che sta per Business Network International su cui noi lavoriamo e quindi questo sicuramente in tanti già ci conoscono però entrare a far parte della region di cui io sono la referente che è BNI Milano Sud-Est o BNI Roma Nord-Ovest diciamo che è un modo davvero per farsi del bene e fare anche del bene agli altri quindi far conoscere la propria attività se uno si lavora lavora bene e lavora con qualità con professionalità il posto c'è c'è per tutti quindi per tutte le persone che hanno professionalità e qualità noi apriamo le braccia e li accogliamo quindi non ci sono limiti di settore insomma tra artigiani professionisti imprenditori ed è un luogo dove si può fare la differenza come dici sempre tu che è il motto che un po' ti contraddistingue quindi quello che secondo me possiamo dire con estrema come dire certezza che il passaparola non è morto funziona è senz'altro però un lavoro quindi da prendere con la stessa con lo stesso impegno come si fanno altre attività durante la giornata e quindi dedicare del tempo e anche l'applicazione del metodo che tu appunto raccontavi aiuta poi molto in questo processo anche perché come dicevi giustamente è già stato fatto tutto quindi è solo da applicare quindi a prima di salutarti raccontami anche di Seminiamo Contatti però che è questo progetto no? sì Seminiamo Contatti è un progetto che nasce è un sito che nasce davvero per far sì che le persone che fanno parte della mia rete possano utilizzare anche questo canale per farsi conoscere è un sito dedicato proprio al network il give us gain il marketing tutto quello che riguarda davvero i contatti ecco perché si chiama seminiamocontatti.it io dico sempre che dove metti un semino lo curi lo innaffi e vedi sorgere qualcosa quello è quello che stiamo creando l'abbiamo creato e ha per ora molto successo possono scrivere tutti i nostri membri di BNI possono scrivere qualcosa che ritengono importante per tutti gli imprenditori e professionisti e quindi comunicare attraverso naturalmente anche questo sito perché è davvero alla volontà di supportare nelle nostre tematiche anche la nostra rete quindi se qualcuno è interessato può scrivere un articolo noi lo pubblicheremo ovviamente dopo averlo valutato oppure può fare anche un webinar per farsi conoscere noi lo divulgheremo attraverso la nostra rete di contatti quindi insomma è anche questo dedicarsi agli altri alle persone questo è quello che faccio sempre costantemente con tanto lavoro ma con tanta passione e credo che un po' si capisca perché perché per me le persone sono un enorme valore del resto noi non viviamo su un'isola viviamo insieme a tante persone e quindi il nostro valore non sono più i soldi ma sono le persone ci conosciamo e quanto bene lo conosciamo e questo è sicuramente il segreto del nostro lavoro è proprio il tesoro relazionale che abbiamo e che se siamo come dire poi capaci di curare è un po' come se fosse davvero un giardino un orto da coltivare da lì davvero vengono poi anche magari nel tempo delle belle soddisfazioni infatti a me il nome seminiamo contatti mi è piaciuto moltissimo perché l'ho trovato poetico ma concreto allo stesso modo qualcosa che è vero e quindi insomma chi fa impresa sa che la parte relazionale è fondamentale a volte siamo un po' chiusi nel nostro giardino quindi vediamo più o meno sempre le stesse persone e il network che tu proponi e che tu offri dà la possibilità di espandere devo dire enormemente perché poi è un network internazionale che insomma va anche oltre i propri confini volendo ormai siamo in tutta Italia e siamo in più di 70 paesi nel mondo quindi anche se uno ha bisogno di contatti all'estero o vuole promuovere il suo prodotto o il suo servizio all'estero sicuramente con la nostra rete con BNI è molto più facile è molto agevolato sia dal punto di vista personale professionale ma anche per esportare magari idee e start up e farsi conoscere all'estero abbiamo questa bella opportunità e mi piace davvero diffonderla affinché più persone possibili la possano sfruttare esatto molto bello e seminiamo contatti si aggiunge a questa operazione da un'altra vetrina che tu metti a disposizione anche lì con dei contenuti molto interessanti sì io mi dedico costantemente a pensare come aiutare le persone quindi come aiutarle da tutti i punti di vista e anche quella creazione di questo sito è nata proprio davvero con la volontà di mettere insieme il valore che noi abbiamo abbiamo tanti professionisti di tante categorie professionali diverse con tante tematiche che possono dare valore aggiunto e quindi su questa piattaforma uno può ovviamente arrivare a tante persone avendo naturalmente l'opportunità di farsi conoscere quindi ancora una volta ho pensato ho studiato e ho realizzato insieme a delle persone valide che mi hanno costruito il sito un qualcosa per tutti i membri che di cui io seguo un po' lo sviluppo e ci credo che possano davvero migliorare e lavorare per gli altri e questo sicuramente è il primo tentativo ce ne saranno altri ma sicuramente ogni cosa che noi facciamo lo facciamo per gli altri e questo è quello che fa la differenza gli altri lo percepiscono sì e poi il ruolo di un imprenditore dovrebbe essere proprio quello di creare valore per la società per il mondo per lasciare qualcosa anche di buono di noi stessi insomma spesso gli imprenditori veramente poi lo fanno ogni giorno quindi il network è anche un modo per condividere queste modalità insomma questi obiettivi Sabina non mi resta che ringraziarti davvero tanto per questa bella chiacchierata è stato un piacere poter presentarti a chi ci ascolta e anche far conoscere meglio seminiamo contatti e la tua rete di Business Network International quindi grazie per essere stata qua con noi grazie a te Francesca grazie a chi ci ha ascoltato vi aspettiamo in un bel mondo dove gli imprenditori i professionisti e gli artigiani davvero possono ottenere di più grazie esatto grazie imprenditori che cambiano vi saluto e vi aspetto alla prossima intervista di Focus On a presto grazie a tutti